Il video di oggi è sponsorizzato da JLCPCB Grazie per la visione Il video di oggi vi andrò a mostrare come sono riuscito a progettare e a creare da zero un circuito elettronico ottenendo questo risultato Infatti tramite il servizio di JLCPCB sono riuscito a mandare in produzione il mio circuito elettronico E ragazzi questo qua è il risultato E' qualcosa di veramente pazzesco perché una caratteristica importante di JLCPCB appunto è che vi lascia scegliere qualsiasi parametro di produzione del PCB Quindi dal numero di layer del PCB, dal tipo di contatti che devono avere i connettori ad esempio se d'oro o se connettori normali Inoltre hanno un servizio di testing del vostro PCB che controllano eventuali circuiti aperti e connessioni a massa quindi cortocircuiti Che è veramente molto utile soprattutto per chi è alle prime armi Il servizio di JLCPCB è rivolto sia ai privati e questa è una cosa veramente molto comoda perché potete creare un qualsiasi circuito e mandarlo in produzione a un prezzo veramente molto economico Ma è rivolto anche alle aziende perché sono in grado di produrre PCB in quantità enormi e con controlli del tipo ROHS Quindi sono in grado di offrire un servizio a 360 gradi sulla produzione dei PCB Un'ultima cosa molto comoda del loro servizio è che offrono la possibilità di montarti il tuo PCB Quindi di acquistare i loro componenti, saldarli e mandarti il PCB già fatto Io ragazzi sono veramente molto contento del risultato finale, il colore nero ci calza pennello, è bellissimo E ora che dire, andiamo a vedere come si fa a progettare il circuito elettronico e successivamente come si manda in produzione Benvenuti quindi su EasyEDA, questo è il software che utilizzeremo per la progettazione del nostro circuito Qui vedete che c'è già il mio circuito che ho realizzato Ed è molto semplice da utilizzare perché basta andare in library, prendere un componente, ad esempio lMR16020, quello che ho utilizzato io Doppio clic sopra e lo andiamo a posizionare all'interno del nostro circuito Ora io lo cancello, il circuito è già creato, vi mostro come ho progettato il circuito Perché infatti qui, a parte la breve introduzione, ci sono varie motivazioni per le quali ho scelto l'MR16020 Infatti il circuito di oggi, il circuito in questione, è un convertitore di tensione Che ci permette di convertire la tensione da 48V a 5V in modo veramente molto efficiente Infatti questo circuito è veramente molto utile nel caso in cui abbiate delle batterie che lavorano a una tensione relativamente alta E volete convertire quella tensione lì in 5V stabili Procediamo e vediamo come si fa a progettare questo circuito Innanzitutto andiamo a definire quali sono i parametri che vogliamo ottenere In particolare vediamo che la tensione di lavoro scelta è 48V Infatti questo circuito mi serve per il progetto REV21 dell'auto elettrica E l'auto lavora 48V Quindi scelgo 48V La tensione in uscita 5V Perché voglio ad esempio riuscire ad alimentare un Arduino Con una corrente in uscita di 2A Questi altri parametri sono dati dai datasheet Mentre questi sono scelti da me Infatti voglio un ripple della tensione Un ripple della corrente relativamente bassi Quindi vorrei che il segnale in uscita sia preferibilmente costante E non troppo rumoroso Mentre la frequenza di switching la voglio sui 600kHz Una volta definito quello che vogliamo Andiamo a calcolare i vari valori dei componenti elettrici Il primo è la resistenza di feedback Che ci serve per andare a definire la tensione in uscita del circuito In questo caso vedete che si calcola così Dove Vout è il protagonista quasi di questo calcolo Per rendere semplici i calcoli Se scegliamo 100kΩ di resistenza per RFBT Otteniamo che RFBB è circa 17,65kΩ Scegliamo 17,8 perché è il valore reale più vicino a 17,65kΩ Proseguendo troviamo il calcolo per la frequenza di switching Che viene impostata tramite la resistenza RT Infatti si calcola così e se vogliamo lavorare a 600kHz Dobbiamo impostare RT a 40,72kΩ Anche in questo caso il valore reale più vicino è 41,2kΩ Successivamente un classico componente dei convertitori step down In questo caso back converter È l'induttore Infatti l'induttore è il protagonista del trasferimento di energia Tra una metà del circuito e l'altra In ogni caso per calcolarlo andiamo a settare alcuni parametri Questi qui li abbiamo definiti prima KIND serve per andare a definire quale sarà il ripple in uscita della corrente Noi cerchiamo di impostarlo al valore più basso possibile Svolgendo questi calcoli infatti Andiamo ad ottenere che il valore minimo di induttanza è di 17,716kΩ E possiamo scegliere ad esempio un'induttanza di 22μΩ In questo modo infatti andiamo ad ottenere un ripple di 0,4A Quindi 400mA Diciamo che non è il massimo un ripple del genere Però diventa difficile poi andarlo a diminuire Quindi possiamo accettare questo valore Successivamente andiamo a scegliere il capacitor di output Quindi il condensatore in output Svolgendo questi calcoli andiamo a trovare che il valore in output Possiamo impostarlo a 47μF In particolare qui trovate tutti i dati che ho utilizzato per svolgere questi calcoli Un altro elemento molto importante è il diodo Schottky Che andiamo a impostare 60V 2A Questo perché l'LMR supporta fino a 60V in input E la corrente in output deve essere di 2A Successivamente il capacitor di input e quello di bootstrap Gli impostiamo a 100nF Perché questo è il valore consigliato sui datasheet Infatti i datasheet sono l'elemento fondamentale Per andare a costruire tutta questa progettazione Una volta finita la prototipazione dei componenti Si va a creare il circuito come ho fatto qui In questo caso questa è una simulazione su PSPICE Software della Texas Instruments E notate che all'aumentare del tempo La tensione si stabilizza subito a 5V Mentre la corrente ci mette un po' di più a stabilizzarsi a 2A E notate che il ripple è un po' più importante Infatti vi ho fatto notare prima i 400mA In ogni caso otteniamo il risultato desiderato Quindi possiamo procedere al routing del PCB Per il routing del PCB torniamo su EasyEDA E andiamo a cliccare Design e Convert to PCB Il risultato è che successivamente andremo a posizionare Tutti i componenti sul nostro PCB E infine ad effettuare i collegamenti Una volta terminati i collegamenti E qui ragazzi viene la parte bella Perché possiamo cliccare su PCB Fabrication File E possiamo mandarlo in produzione Clicchiamo su Order at JLCPCB Perché il servizio di JLCPCB È già integrato all'interno di questo software Quindi non c'è modo più semplice Per mandare in produzione il PCB Clicchiamo su questo bottone E verremo reindirizzati a questa pagina Come vi dicevo prima La scelta dei parametri è davvero molto ampia Se noi selezioniamo 5 PCB da mandare in produzione C'è un'offerta in questo caso Che invece di 4 dollari Spendete 2 dollari per 5 PCB Andiamo a selezionare 2 layer Queste sono le dimensioni del nostro PCB Quantità 5 Possiamo ad esempio selezionarlo nero E notate che il prezzo rimane invariato E sempre a questo prezzo Lo risvolgono anche il test Quindi ragazzi potete sbizzarrirvi Con la configurazione del vostro PCB E come vi dicevo prima Potete o ordinare lo stencil Per andare a posizionare correttamente Il flussante sui pin che dovranno poi essere saldati Oppure potete farlo assemblare direttamente da loro In questo caso il circuito io l'ho creato su un layer Quindi seleziono questo E si può appunto mandare in produzione Il PCB con anche il montaggio E riceverete un circuito già montato E pronto all'utilizzo Quindi ragazzi notate che il servizio di JLC PCB È davvero incredibile Io è da un sacco di tempo Che desideravo collaborare con loro Perché so che producono PCB Veramente di alta qualità Cioè io da solo non riuscirei mai Ad ottenere una qualità del genere Un circuito del genere E inoltre ci permette appunto Di lavorare con circuiti veramente di dimensioni ridotte Detto questo la domanda che rimane da porsi è Ma il circuito che hai creato effettivamente funziona? Purtroppo ragazzi vi devo dare un aggiornamento sul circuito Perché effettivamente ragazzi funziona! Ho detto purtroppo perché in sostanza il circuito funziona In uscita abbiamo circa 4 volt 4,2 di tensione media E questo problema è dovuto al routing del PCB Infatti non sono andato a creare un routing appropriato Per il tipo di circuito che sono andato a creare Ne ho parlato poco fa con il docente di elettronica E infatti bisogna fare un routing fatto meglio In particolare le linee di massa e di alimentazione Sono troppo piccole Essendo questo un circuito di switching Purtroppo ci sono molti disturbi E appunto non si riesce ad ottenere i valori Che si ottengono da simulazione anche con il circuito reale Nei prossimi giorni continuerò a lavorare a questo PCB Migliorerò appunto il routing delle piste sul PCB Per renderlo ottimale Probabilmente lo rimanderò in produzione E andrò a ricreare il circuito per testarlo E vedere se funziona meglio In ogni caso ragazzi controllate la descrizione Perché vi lascio disponibili i file gerber del PCB Eventualmente se avete intenzione di produrlo In ogni caso questo circuito effettivamente funziona Non è un gran che Però potete provare a mandarlo in produzione anche voi E successivamente andarlo a ricreare in questo modo Un altro errore che ho commesso È stato scegliere molto velocemente i componenti SMD Infatti dovete sapere che non tutti i componenti SMD Hanno le stesse dimensioni Purtroppo ho scelto dei componenti Che hanno dimensioni secondo me sui 500 micron E vi giuro che saldare quei componenti lì è davvero un inferno Infatti sempre qui in descrizione vi lascerò un secondo PCB Che sono andato a ricreare Dove ho ingrandito tutti i componenti SMD Che sono andato ad inserire nel circuito Per quanto riguarda le resistenze Vi consiglio di utilizzare resistenze del tipo R1206 oppure R2502 Sono quelle grosse Ad esempio potete vedere che qui c'è una resistenza grande Ovvero RFBT Ora non so se potete notarlo voi Ma ci sono delle resistenze che sono davvero microscopiche Su questo circuito Detto questo un'altra cosa molto utile Quando andate a creare i PCB Quindi a saldarli soprattutto È il flussante Trovate nella nostra lista Amazon Anche i flussanti per la saldatura Detto questo ragazzi Voglio farvi dare un ultimo sguardo A questo circuito Perché cioè È davvero bellissimo Cioè il PCB È qualcosa di pazzesco Guardate i dettagli Guardate come è stato stampato bene E il bello è che questo servizio appunto È rivolto sia a privati Che ad aziende Infatti i controlli che poi loro possono fare Sui PCB Sono davvero molto ampi E possono produrne anche in grandi quantità Quindi ragazzi Spero che abbiate apprezzato questo video Spero anche che abbiate apprezzato il mio circuito Nonostante non funzioni in condizioni ottimali Vi giuro che presto uscirà la versione nuova del circuito Che metterò sempre qui in descrizione Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per non perdervi i prossimi video di aggiornamento Lasciate assolutamente un like a questo video Se vi è piaciuto E se volete supportarci Per qualsiasi domanda Scriveteci qui sotto nei commenti Io spero di non bruciare altre schede PCB Prodotte da me E ci vediamo nella prossima puntata Ciao Ciao